Ben tornati in un nuovo video, oggi andiamo ad affrontare un esercizio sui grafi. Mi è stato richiesto e sono contento di portare un nuovo argomento all'interno del canale. Iniziamo subito a leggere l'esercizio. Allora, utilizzando Java si progetti un sistema per la gestione dei brand, marche, in una rete di social network, si modelli l'insieme, dati, con una opportuna struttura di dato tipo grafo, appunto. Esempio, ecco, abbiamo questo grafo, molto bello, e poi lo analizziamo un attimo insieme. Ok, leggiamo un attimo che cosa vuole. Il grafo è composto da due tipi di nodo, utente, U, e tipo brand, ovvero la marca, ok. Esiste un arco fra due nodi utente, se gli utenti sono amici nel social. Esiste un arco fra un nodo di tipo utente e un nodo di tipo brand, se quell'utente ha espresso interesse verso quel brand. Non può esistere un arco fra due nodi di tipo brand. Se il grafo non rispetta i suddetti vincoli, si dice improprio, ok. Ci tengo a fare precisione su questa cosa di improprio, che adesso andremo a vedere perché fa parte dell'esercizio. Poi, un utente di tale grafo si definisce influencer se, solo se, il numero di nodi di tipo utente a cui è collegato è strettamente maggiore del numero di brand a cui è collegato. Perfetto. Quindi, dopo andremo un attimo a rivedere la cosa, vediamo qual è la consiglia dell'esercizio. L'esercizio dice implementare almeno i seguenti metodi. Public Boolean grafo proprio, il metodo ritorna falso se il grafo è improprio. Molto semplice da fare. Poi, Public Collection, quindi per esempio bisogna restituire un ArrayList, Influencer, Grafo G, quindi prende come argomenti il grafo G e l'utente U. Il metodo ritorna una Collection, quindi nel mio caso io ritornerò un ArrayList perché è, diciamo, l'oggetto più facile da utilizzare. Di noti brand di cui U è Influencer, ovvero l'utente. Se l'utente U non fosse Influencer di alcun brand, ritorna nulla. Bene, iniziamo con il primo metodo, grafo proprio. Ok, guardiamo un attimo questo grafo qui e diciamo che se ci fosse un Arco tra B1 e B2, allora il seguente non potrebbe essere un grafo proprio perché appunto non rispetta questo vincolo. Gli altri sono vincoli semplici, UU e poi che U è collegato a B, quindi niente, diciamo, che dia problemi. Il problema in realtà sarebbe se ci fosse un collegamento tra questi due, quindi quello che noi dobbiamo andare a fare è una sorta di check su tutta la matrice delle adiacenze per vedere se ci sono dei brand che si seguono tra di loro. Dico seguono tra di loro, inteso che ci sta un Arco tra i due. Ok? Ma prima di iniziare ancora vorrei far vedere questo, diciamo, grafichetto che ho fatto apposta per il video. Allora, vediamo che questa in verde è una matrice di adiacenza e vediamo gli indici da 0 a 8 perché appunto se andate a controllare il grafo che vi ho fatto vedere sono 9 nodi, quindi da 0 a 8 sono 9 numeri. Allo stesso tempo ci tengo a precisare che, come ho fatto vedere nel video precedente come strutturare un grafo, praticamente avremo la lista dei nodi, questa qui, che è, diciamo, strettamente collegata con la matrice di adiacenze. Perché dico questo? Allora, n0 corrisponderà all'indice 0 in questa matrice, quindi sarà facile per noi lavorare in entrambi, diciamo, gli oggetti che stiamo utilizzando, ovvero matrice di adiacenze e array list dei nodi. Quindi iniziamo subito a fare il metodo per vedere se un grafo è proprio o improprio. Bisognerà, allora, ho già preparato delle cose e ci tengo a far vedere un'ulteriore cosa. Ho fatto all'interno della classe nodo una string, ho messo una variabile primitiva di tipo, cioè stringa tipo. Praticamente tipo, nel nostro caso dovrebbe dire che è o utente o brand. E poi ho fatto una funzione booleana qui all'interno che dice isutente, nel senso, mi va a controllare direttamente lui all'interno del nodo se quel nodo del grafo è un utente o è un brand. Visto che sono solamente due e sono mutuamente esclusive, ho fatto semplicemente return tipo di utente. Quindi se mi restituisce false, che cosa sarà? Ovviamente un brand. Ecco, allora, iniziamo subito con fare grafo proprio. Allora, visto che bisognerà lavorare con la matrice di adiacenza, che è questa qui appunto, bisogna fare un for, allora, int i uguale a 0, i minore di matrice, punto di adiacenza, punto, lent. Perfetto. I più più. E questo è il primo ciclo for. Poi, non preoccupatevi che sottolineo, ma perché ancora non sto ritornando nulla, anzi, se proprio vogliamo farlo felice, return true, e poi vi dirò perché lo metto. Allora, poi bisognerà fare esattamente un altro for all'interno di qui. Quindi, for int j, perché praticamente, visto che dobbiamo scorrerci una matrice, noi ci scorriamo questa in verticale, però per ogni volta che ci facciamo in verticale, facciamo anche la passata orizzontale, perché dobbiamo andare a vedere tutte, diciamo, queste parti qua. Insomma, dove ci sta il, come si dice? Dove, quando c'è la matrice di adiacenza che dice 1, vuol dire che c'è un collegamento tra un nodo e l'altro. Perfetto, quindi int j, qui, matrice di adiacenza, l'elemento iesimo, e poi j più più. Questo, ragazzi, non lo sto a spiegare perché è il metodo classico per passarsi una matrice. Se vi serve, me lo fate sapere e ve lo spiego in un video un po' più dettagliato, perché adesso non è il caso. Perfetto, ora siamo all'interno della matrice e stiamo lavorando su ogni elemento, praticamente, i, j. No, però una cosa che posso dirvi è che se, per esempio, stiamo lavorando sul nodo 0 e il nodo 0 è utente, è inutile che noi facciamo questo ulteriore ciclo, perché non serve a niente, perché l'utente non ha vincoli di andare o su un brand o su un altro utente. Quindi io prendo questo blocco, lo cancello un attimo e scrivo if. Allora, e questo è importante, statemi bene a sentire. E allora, visto che siamo sull'elemento esimo e abbiamo la lista dei nodi, if nodi.get, l'indice i, punto, is utente, Allora non deve succedere niente. Quindi, if not, quindi se è un brand, andiamo a fare il check all'interno. Quindi, è un brand. Allora, possiamo fare questo ciclo for all'interno e andiamo a farci il check se c'è un collegamento tra brand e un altro. Quindi, allo stesso modo, dobbiamo fare un altro if e controllare che, per esempio, se questo nodo 0 fosse un brand, ok? E il nodo a questo indice qui, che è il 4, è un brand, noi dovremmo andare a controllare che questa cella sia una x, nel nostro caso 1, all'interno della matrice di decenza, e che questo nodo sia di tipo brand. Se, a questo punto, tutti questi due casi sono verificati, allora il grafo è detto improprio e quindi ritorniamo direttamente a false. Altrimenti, se diciamo questi casi non si verificano mai, come appunto ha fatto vedere, ritorneremo direttamente true. Quindi, allora, il nodo è un brand. Lo scrivo un po' meglio. Il nodo è un brand. Quindi, qua dentro, un ulteriore if. Allora, nodo, nodi, punto, get. Visto che stiamo lavorando con l'index j, che dobbiamo controllare, perché adesso stiamo, per esempio, questo qui sarà l'index jesimo, all'interno del coso. Punto, is, utente, quindi not. Il punto esclamativo significa not. And bisogna fare matrice di adiacenza i j uguale a 1 e si ritornerà direttamente false. Lo so che il codice scritto così è un po' difficile da capire, però lo sto cercando anche di fare il più ammassato possibile, non ammassato in senso negativo, ma nel senso che scrivere il meno codice possibile. Lo ripeto un'altra volta che cosa ho scritto. Ho fatto un for, il primo for, per scorrermi in verticale, ok? Se il nodo è un utente, non ha senso andare a farsi il check orizzontale, perché gli utenti possono stare sia collegati con un brand che con un utente stesso, quindi non è interessante. Se, per esempio, il nodo 1 è un brand, allora sì che andremo a fare il controllo in orizzontale. Quindi, una volta fatto questo, quindi se questo è un brand, facciamo un ulteriore for. Il for viene fatto su tutte le colonne, e ora andiamo a vedere l'if che c'è all'interno di quest'ulteriore if, ed è se non è un utente, ovvero se il giesimo di questa colonna, per esempio il 2, è un brand, a seconda di questa cosa, e matrice di adiacenza, ovvero la cella di quella matrice di adiacenza, avendo indice i e j, e appunto i abbiamo detto che qua è 1, e poi 2, così è uguale a 1, come abbiamo fatto, allora si ritorna false, perché questo è un brand, e brand1, con il brand2, diciamo, i due nodi sono collegati, quindi basta un caso per far ritornare false. Se, diciamo, uno non rientra mai in questa cosa, alla fine il ciclo for finirà, e si ritorna true. Quindi, molto semplice. Ora, passiamo invece all'ultimo metodo, quello là influencer. Influencer, in pratica andiamo un attimo a rileggerlo, per essere un influencer, si definisce influencer, se e solo se il numero di nodi di tipo utente, cui è collegato, è strettamente maggiore del numero di nodi brand, cui è collegato. Ora, io come farei? Io, ogni volta che vedo un brand, lo aggiungerei all'interno di un array list, e metterei un contatore, per vedere quanti brand sta seguendo quest'utente. Allo stesso modo, però, farei un conteggio di quanti sono gli utenti, all'interno del, che segue quest'utente, o comunque con quei amico, perché non è molto chiaro in esercizio. Poi, se il numero supera, se il numero di utenti con quei amico supera il numero dei brand, allora ritorno la lista, altrimenti, come mi dice l'esercizio, ritornerò null. Quindi, il metodo influencer. Allora, il metodo influencer bisognerà restituire un array list, perché appartiene alla classe collection, eredità, e quindi, iniziamo subito, dichiariamo, array list di nodo, list a brand, uguale new array list, di nodo, ed è la prima cosa. Poi, mi servirà int index, che è dato da, visto che noi dobbiamo, dato l'utente u, dobbiamo sapere anche l'appartenenza all'indice, per poi fare il check sulla matricità decenza, faremo nodi, che è il nostro, la nostra lista dei nodi, nodi, punti, index off, dell'oggetto u, perfetto, e poi avremo bisogno di int, conta utenti, che è uguale a 0, è uguale a, conta brand, dobbiamo fare, conta brand. Ok, avendo queste cose dichiarate, sarà molto semplice, fare il nostro ciclo for, e fare tutti i nostri conteggi, di cui abbiamo bisogno. Quindi for, int i, uguale a 0, i minore di, matrici di decenza all'indice index, punto length, perfetto, lo solito modo di fare un for, perfetto, ora, guardando di nuovo qua, quando ci sta, diciamo, una diacenza, quindi, quando la matrice index, iesima, cioè, è uguale a 1, bisogna fare delle accortezze, che faremo subito. Allora, if, matrice di decenza, index, i, uguale a 1, si fa subito un check. Bisognerà fare un check, innanzitutto, che, questa, che l'indice, iesimo, in questo caso, sia, o un utente, o un brand, e poi muoversi di conseguenza. quindi, if, nodi, punto, get, i, punto, isutente, quindi, se è un utente, semplicemente faremo, conta utenti, più, più, e tanti saluti. Visto che, utenti e brand, sono mutuamente esclusivi, se non è zuppa, è pan bagnato, quindi, conta brand, e poi faremo che aggiungiamo il brand all'interno dell'array list, che eventualmente ritorneremo. Perché dico eventualmente? Perché, prima di ritornare alla lista, andremo a fare un check, che effettivamente l'utente, che è stato dato, nei parametri di questo metodo, è un influencer. E come si faceva questo? Vedendo che, è più a più amici, o follower, che brand che segue. Quindi, bisognerà fare conto utenti maggiori di brand, se questo caso è verificato, allora ritorniamo l'array list, lista brand, altrimenti ritorneremo null. Quindi, innanzitutto, andiamo ad aggiungere, quindi, lista brand, punto, add, cosa andiamo ad aggiungere? Nodi, punto, get p. Perfetto. Perché stiamo lavorando, su un for di indice, con, con l'indice, qua, conta più più, ed ecco, che è, fatto il ciclo for, come dicevo, if, quindi, andiamo a fare il check, if, conta utenti, è maggiore di conta brand, l'indice brand, ritorniamo, lista brand, return null, se questa cosa non è verificata. Ora, riguardiamo al volo l'esercizio, lista brand è un array list di nodi che dobbiamo restituire, poi, indice, l'indice fa nodi e punte index off, praticamente, preso l'oggetto, ti ritorna l'indice di appartenenza all'interno dell'array, in modo che poi possiamo utilizzarlo per la nostra matrice di adiacenza, contotente e contabrand sono dei semplici contatori, ciclo for, su la riga è index esima, bruttissimo da sentire, ma è così, facciamo if matrice di adiacenza, diciamo, se c'è una adiacenza tra l'indice index e l'indice i, allora si va a fare questo check che ho spiegato, si va a fare la somma di contotenti, la somma di contabrand, se si tratta di un brand, si aggiunge il brand all'interno della lista brand, e poi si fa il check che effettivamente sia un influencer o meno. Ora, questa è la prima volta che lavoravo sui grafi, sul mio canale, spero di essere stato abbastanza chiaro, se avete consigli o domande o così, veramente fatemelo sapere, rispondo sempre a tutti i messaggi, il codice lo pubblico su Pastebin, come al solito, mi raccomando, state sintonizzate al canale. Ciao!